Canale 2C comincia anche oggi il nostro appuntamento, rieccoci qui gentili telespettatori, staremo insieme per 20 minuti circa con il nostro ospite che tra poco vi presenterò perché stiamo continuando il nostro percorso di presentazione dei candidati alle prossime elezioni comunali di Altamura perché lo ricordiamo con molta probabilità a maggio si voterà ad Altamura perché il governo è caduto, c'è la commissaria, questo un po' per riepilogare quello che sta succedendo in questa città. Quindi a maggio sarete chiamati a votare il futuro sindaco e quindi la futura amministrazione di questa città. Oggi dopo aver presentato Peppino in campo che era il primo candidato noto in questa competizione elettorale, oggi vi presento il secondo candidato noto perché è stato presentato con una conferenza stampa sabato scorso ed è una persona che già conoscete perché è stato qui a Canale 2 molte volte, l'avvocato Gianni Moramarco che salutiamo. Grazie, buona giornata a tutti voi che ascoltate e che seguite questo programma molto interessante. Quindi avvocato, oggi lei si ritrova qui nelle vesti di candidato sindaco di ben sei liste civiche, lo vogliamo dire per quanti ci stessero. Un abito a cui non immaginavo mai di dover aspirare, sì, le liste di azioni civiche, azioni per Calenda, insieme per Altamura, innoviamo, siamo Altamura noi, hanno ritenuto di dover dare a me questo onere e questo incarico abbastanza importante ma anche abbastanza gravoso. Ecco, come è scaturita questa decisione di accettare la candidatura perché suppongo che queste liste si siano riunite per candidarla a sindaco di questa città? La decisione da parte mia è stata molto travagliata, ho vissuto un percorso elaborativo abbastanza complesso anche perché ero fortemente preso dalla mia attività professionale così come lo sono ancora e nello stesso tempo anche dai miei impegni familiari ma poi anche da una prospettiva diversa ritenendo di poter dare un contributo fattivo alla crescita e allo sviluppo di questa città attraverso i contenitori che soprattutto negli ultimi dieci anni ho avviato per cui ritenevo che quello già potesse essere sufficiente come contributo. Parliamo delle associazioni culturali che ha tirato... Parliamo delle associazioni culturali che però se mi consentite sono associazioni che hanno elaborato anche dei modelli di organizzazione che consentivano di coniugare la cultura con l'economia perché se mi si consente il riferimento per esempio a settembre si è dato vita ad una sagra che ha comportato comunque un certo movimento commerciale ed economico. Se si fa poi riferimento alla prima iniziativa che risale a circa dieci anni fa mi pare che siano ben noti i ritorni economici e le ricadute economiche perché quando sono state progettate queste iniziative non sono mai state finalizzate a se stesse, sono sempre state finalizzate e guardate come volano dell'economia quindi un modo diverso di vedere la cultura, un modo come dire abbastanza pragmatico e come dire un modo che potesse coinvolgere tutti quindi anche la parte commerciale. La commissaria che sta gestendo, amministrando la città di Altamura ha dato il via al percorso di Altamura come candidata capitale della cultura, lei l'avrà saputo suppongo, che ne pensa di questa cosa? Io ho avuto notizia, sicuramente un appuntamento ormai fissato a cui non si potrà mancare, a cui non si potrà mantenere, non si potrà non offrire il sostegno ad una idea di questo tipo. Io temo però che non siamo ancora pronti, temo che bisogna fare una serie di attività propedeutiche di preparazione prima di intraprendere un progetto così importante, però Altamura è capace, ha le forze, ha le risorse per poter nel giro di poche settimane, di pochi mesi anche mettere su un programma così ambizioso e immagino che Altamura risponderà se dovrà essere chiamata intanto nell'elaborare un progetto particolarmente rilevante e in secondo luogo per poter magari partecipare anche alle fasi finali, se ci saranno. Io avevo immaginato insieme ai miei amici delle liste con cui condivido il programma di fare qualcosa o di progettare qualcosa che potesse avere una valenza intermedia e quale per esempio Altamura, capitale o capoluogo della regione Puglia della cultura. E' questo un contenitore che potrebbe avere rilievo soprattutto perché potrebbe essere un format nuovo e che potrebbe investire tutte le belle cittadine di questa regione. Quindi sarebbe stato più facile anche accedervi? Sarebbe stato più facile accedervi perché sarebbe stata o è, potrà essere una iniziativa che parte da Altamura e quindi sarebbe un format che Altamura potrebbe inaugurare, ma nello stesso tempo forse sarebbe più alla nostra portata. Ecco questa nostra idea di proporci come città culturale è importante, è bella, forse sarebbe anche il caso, tranne il fatto che io per esempio sono contrario dal fatto di dover delegare ad altri, ad altre città, ad altre organizzazioni la nostra cultura, cioè quello che si debba fare in città, lo sappiamo, ci sono provvedimenti della passata amministrazione che riguardano proprio questo argomento, cioè il delegare ad altri le scelte. Va bene, ma lasciamo perdere. Di questo magari ne discuteremo, però come si fa a conciliare una candidatura del genere, lo chiedo a lei che è candidato sindaco, con quello che invece è accaduto ancora una volta nella nostra città l'altra notte quando probabilmente a causa di petardi, fuochi d'artificio che ogni sera vengono sparati, vengono utilizzati nel pieno centro storico cittadino, si è fatto l'ennesimo danno all'unico monumento importante che abbiamo in questa città, la storia di questa città legata appunto a Federico II, che è la cattedrale, cioè ancora una volta si sono rotti, come vedete dalle immagini, i vetri della cattedrale nella parte che si affaccia, nella parte laterale posteriore che si affaccia su via Candiota. È ancora una volta un danno, non solo economico, ma qua veramente non si riesce ad arginare questo fenomeno, lei cosa ne pensa? Mi pare che questo sia il terzo episodio di danneggiamento delle vetrate della nostra chiesa cattedrale, è chiaramente un fenomeno allarmante, io non so se sia stato provocato in maniera diretta, per esempio attraverso l'ancio di pietre o in maniera indiretta attraverso l'esplosione dei petardi. Il problema è importante perché significa che il nostro centro antico è ormai privo di qualsiasi controllo e mi pare che abbiamo perso il controllo del centro antico ma anche della città, anche nelle ore antimeridiane e quindi mi pare che bisogna trovare il modo perché queste aree, soprattutto quelle del centro antico che sembrano più abbandonate, siano più presidiate. Nello stesso tempo c'è questo fenomeno delle ore 24, quasi puntualmente o quasi tutte le sere alle ore 24 c'è l'esplosione di questi fuochi di artificiali. Ma anche alle 22, insomma dipende a volte. Sinceramente non sono riuscito ancora a dire. Ormai si confondono questi fuochi anche con le sale ricevimento, non si capisce più nulla. Anche qui immagino che sarà importante regolamentare anche questi fenomeni. Il problema di base però è il controllo. Bisognerà trovare il modo per dare di nuovo vita al centro antico, dare ulteriori presenze e quindi evitare di favorire queste situazioni in forza delle quali si deve vincere che ci sono delle persone che hanno il presidio della città e non sono le forze legali. Un altro argomento che purtroppo recapiterà sotto mano molto presto nel caso in cui dovesse essere lei il sindaco della città, ma anche nel caso in cui dovesse diventare consigliere o dalla maggioranza della posizione, si ritroverà davanti alla questione... Non sapevo l'ipotesi che non venga eletto da nessuna parte, è la terza ipotesi che dovremo anche considerare. Non la cito nemmeno, non credo che sia il caso. Ma il problema dei rifiuti, sia della raccolta che dello spargimento nelle nostre periferie indiscriminato... In questo periodo ho sentito e ho comunque constatato la situazione che ha per oggetto la questione dei rifiuti, una città che non è pulita, una città sporca, ho sentito anche consiglieri comunali della legislatura uscente che sono venuti anche attraverso questi microfoni a denunciare questa situazione, ma devo dire che è allarmante soprattutto la situazione della raccolta di rifiuti nelle campagne, laddove ho registrato la creazione di una serie di scarichi a cielo aperto lungo ogni strada comunale. È una situazione che davvero non è accettabile, non è sostenibile. Io immagino che questa situazione si possa evitare semplicemente con le installazioni di telecamere, laddove vengono istituiti questi centri di raccolta di fatto. e non regolamentari. Mi diceva proprio lì poco fa che il nostro commissario prefettizio ha proprio ieri deliberato... E' una notizia che dobbiamo dare proprio ora. Ecco, prego, forse... No, 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 ci mancherebbe la stessa cosa. Praticamente la commissaria ha raggiunto un accordo probabile, lo chiamo così, con l'azienda che fa la raccolta di rifiuti, gli ha consegnato altri, credo, 500 mila euro, perché ora il servizio venga allargato a quelle zone dove non era ricompreso, e fin qui ci sta. E poi, da oggi in poi, l'azienda raccoglierà nelle periferie, anziché nella modalità con i bidoni, con i contenitori, raccoglierà porta a porta anche nelle zone di campagna. Ora, non sappiamo se questo è un processo che ci porterà ad un miglioramento, nel senso dello sversamento dei rifiuti. Non la possiamo prevedere questa cosa, però... La responsabilità dei cittadini è alla base, se non c'è la collaborazione del cittadino diventerebbero difficili i risultati attraverso qualsiasi tipo di provvedimento, anche il migliore. È ovvio che alla responsabilità del cittadino si dovrà associare anche il controllo da parte della pubblica amministrazione, anche rispetto a quello che fanno le imprese appaltatrici. Ecco, tra l'altro ho dimenticato di dire che la notizia di quello che ho appena detto è che nelle periferie, lo si sa, praticamente nelle campagne c'erano delle riduzioni per i nuclei familiari, per gli abitanti delle nostre campagne. Ora, con questo provvedimento non ci saranno più riduzioni, perché facendo il porta a porta anche nelle zone periferiche della città sarà applicata la tariffa massima. Quindi prepariamoci a pagare di più, tutti quanti, anche chi ha case di campagna, si ritroverà con la tariffa piena. Questo è un problema che vi ritroverete da affrontare, insomma il futuro sindaco dovrà fare i conti con questa storia. Mi rendo conto che anche questo è un grande problema, soprattutto in questo momento in cui stanno aumentando le utenze, dell'acqua, della luce in particolar modo, del gas ancora. Ci auguriamo che questa tensione possa anche essere più allentata e che possiamo registrare nelle prossime settimane addirittura una riduzione delle bollette. Ma qui è chiaro che un ente comunale dovrà esercitare anche una politica alternativa, al di là delle indicazioni che ci vengono offerte dall'Europa. Io per esempio ho immaginato, proprio parlando di energie o di energia, che si possa pensare ad un discorso che possa consentire alla città in primo luogo, ma anche a tutti i cittadini, di vedersi ridurre i costi delle bollette attraverso impianti da realizzare sugli edifici pubblici, impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici pubblici. Faccio riferimento a situazioni già sperimentate, quali quelle delle comunità energetiche. Però questo è un argomento che svilupperemo in campagna. Quindi le scuole, tutti gli edifici pubblici. Immaginate che vengono impiantati sulle scuole, su alcune chiese, non necessariamente tutte. È chiaro che non si può pensare ad un progetto del genere che investa le chiese o gli edifici storici, però le scuole, soprattutto quelle... Le chiese moderne, diciamo, lì si può fare. Immaginiamo che si possano impiantare questi pannelli che vanno a beneficio sia del servizio pubblico ma anche dei privati. Quindi per una riduzione delle bollette pagate dal Comune e quindi per un alleggerimento. Potrebbe comportare una riduzione delle bollette. Chiaramente in questo momento siamo ancora nella fase della progettualità e quindi dobbiamo ancora avere delle idee e quindi dobbiamo, anche per una serietà nei confronti di chi ci ascolta, ma anche dei cittadini altamurani, è chiaro che questa idea, come tante altre, dovranno anche essere verificate sul piano della fattibilità, anche se un progetto del genere è già ben visto dall'Europa e già vede i primi regolamenti europei in materia. Nello Stato italiano ci sono alcuni comuni, soprattutto i comuni montani, che hanno già adottato questa forma di risparmio, partendo addirittura con delle cooperative, hanno realizzato in alcuni comuni del nord delle cooperative per poter poi beneficiare di questo tipo di servizio e di risultato. Io mi auguro di poterlo proporre quantomeno alla comunità altamurana, poi vedremo se avremo la capacità anche burocratica, anche finanziaria, di poterla realizzare. Ecco, lo voglio ricordare per quanti si fossero sintonizzati ora, magari cambiando canale ci hanno trovato e si chiedono di che cosa stiamo parlando. Allora vi stiamo presentando il secondo candidato in ordine di apparizione, il primo è stato Peppino in campo, il secondo candidato a sindaco della città di Altamura, con sei liste civiche, al quale però voglio chiedere ora, ma lei rispetto a queste liste che la sostengono, ritiene di trovarsi più a destra o più a sinistra rispetto ai soliti cliché della politica? Io forse sono fuori da questo tipo di schema. Io sono un uomo soprattutto moderato e che è attento ai bisogni e alle esigenze della comunità. Per cui sono un uomo che penso di condividere anche le sensibilità di chi condivide questa idea, questo progetto, che appunto è proteso intanto a trovare le soluzioni per che questa città migliori. In secondo luogo per rispondere a quelle che sono le domande, le istanze che arrivano dal mondo soprattutto degli anziani, di chi non ce la fa ad arrivare a fine mese, ma anche al mondo delle imprese e quindi dovremo trovare il modo per snellire per esempio gli iter burocratici che in questo momento regolamentano le varie attività, ma dovremo essere anche attenti a pensare allo sviluppo di questa città. Per cui da questa mia posizione, di tipo appunto moderata, io non mi riconosco né da una parte né dall'altra, nel senso che recepisco quello che di meglio possa arrivare dalle forze politiche tradizionali. Non a caso io ho voluto coniugare un progetto che si fonda sul civismo, il civismo che viene inteso come espressione di stanze, di sollecitazioni, di aspettative di una società che per molti versi è delusa da quello che è il sistema tradizionale della politica. Per cui mi auguro che attraverso questo movimento, che vede anche o che vedrà anche l'aggregazione di altre forze politiche anche stese sul territorio nazionale, per esempio come azione, ci auguriamo che anche altre se ne possono aggregare, mi auguro di poter dare una svolta a quello che è il criterio, il metodo, l'approccio che nel passato si è dato. Il problema che ci poniamo è soprattutto di tipo culturale, perché se non facciamo cultura, se non sensibilizziamo la nostra comunità non potremo neppure rispondere alle esigenze più immediate che ciascuno di noi ha. Ecco, se noi partiamo dalla cultura come volano dell'economia, probabilmente riusciamo anche a dare delle risposte alle istanze che possono anche venire da chi, per esempio, è disoccupato. Un comune, un ente comunale non può pensare di offrire posti di lavoro al di là di quelli che sono strettamente collegati ai servizi, però penso che possa immaginare nel proprio piccolo di creare delle situazioni laddove gli operatori, laddove i giovani possano comunque inserirsi e trovare uno spazio per poter operare. Ecco, penso che un comune, un ente comunale abbia questo compito. Quindi di gruppi di lavoro praticamente. Di gruppi di lavoro. Bene. Ha dei nomi che ci può dire, che ne so, ex consiglieri comunali che sono con lei, qualcuno di riferimento che già conosciamo, che hanno sposato il progetto e quindi... Devo immediatamente riferire che proprio per dare una risposta all'economia del territorio abbiamo ritenuto di doverci avvalere della consulenza di una persona che ha un'esperienza infinita in materia, soprattutto sul piano del territorio e sul piano anche del turismo, sul piano dell'economia locale che si chiama Pasquale Lorusso, il dottor Pasquale Lorusso, che ha un'esperienza importante nel GAL, di Altre di Murgia, ma anche in altri GAL, oltre che in aziende di estensione nazionale. E che ha portato dei risultati, dobbiamo dire, con tutta sincerità. Sì, ci sono dei consiglieri comunali che hanno sempre operato nel mondo delle civiche che hanno un'esperienza anche importante, per cui sì, sicuramente non sono liste orfane o non sono liste completamente sprovvedute. Faccio riferimento, che ne so, a Giovanni Saponaro, faccio riferimento a Gian Domenico Marroccoli, faccio riferimento ad Antonio Petrara, che è stato consigliere comunale, faccio riferimento a Michele Ventricelli, che ha già fatto il consigliere comunale, Angela Grieco, che ha fatto l'assessore per alcuni, penso per più di qualche anno, in un'altra esperienza. Faccio riferimento a Mimola Terza, che ha fatto il consigliere comunale, o forse anche l'assessore, quindi potrei sbagliarmi e non vorrei dimenticarmi di nessuno. Giusto per capire un po' da che cosa è formata questa coalizione, per dare un'idea ai nostri telespettatori. Ci sono sicuramente degli amici che hanno già fatto un'esperienza e che, devo dire, potevano, questa cosa consentitemela di dire, potevano anche ambire e aspirare alla carica di sindaco e quindi a candidarsi, ma con un senso di forte responsabilità hanno fatto un passo indietro proprio per cercare di favorire più aggregazioni, perché ovviamente il rischio era che qualora qualcuno di costoro si fosse candidato o si candidasse alla carica di sindaco, c'era il rischio che questo mondo del civismo potesse disgregarsi e invece devo dire che con alto senso di responsabilità hanno tutti ritenuto di fare un passo indietro e di individuare una persona, forse non ne sono degno, al di fuori delle esperienze politiche, al di fuori della politica finora praticata, che potesse aggregare e che potesse anche rilanciare anche le loro idee, i loro progetti o quantomeno offrire, mettere insieme un contenitore importante. Con questi presupposti, quindi avendo a supporto le liste civiche, il suo governo sarà più di, parlo della giunta, sarà più di tecnici o di politici o di persone? Io penso che sia ancora troppo presto per parlare, anche perché qua ancora questo mondo è ancora molto fluido, noi non sappiamo ancora che cosa accadrà. Dopo Sanremo abbiamo capito che è molto fluido questo mondo. Possiamo ancora, possono cambiare ancora tante cose, per cui queste anticipazioni rischiano di essere smentite di qui a poco. Quello che posso dire è che mi auguro che di poter dar vita, qualora la comunità vorrà riporre la fiducia nella mia persona o nelle persone che mi circondano, dovremo soprattutto privilegiare i meriti, le capacità, le qualità, le conoscenze, meriti che non sono soltanto di tipo professionale o di tipo tecnico, ma anche di tipo umano. Bene, avvocato, siamo arrivati al termine di questa, però le lascio lanciare un appello, un primo appello, un invito alla partecipazione, quello che vuole. È troppo presto per gli appelli elettorali, io vi ringrazio per l'ospazio che mi dedicate. L'appello che posso fare o l'invito che posso fare è quello di partecipare, anche perché sono stato davvero perplesso rispetto ai risultati delle votazioni della competizione in regione Lombardia, in regione Lazio, ma soprattutto per la larga percentuale di coloro i quali non hanno votato e quindi degli astenuti. Questo è un dato preoccupante e questo è un dato sul quale dobbiamo riflettere. Non a caso io ho inteso abbracciare insieme agli amici amici che ho elencato e a tanti altri amici, il veicolo, lo strumento del civismo, proprio perché ci auguriamo di poter partire dalla base e di poter cogliere l'esigenza della base e ci auguriamo in questa maniera di coinvolgere attraverso anche l'espressione del voto, ma non solo, la comunità intera. L'invito è a partecipare, offrire i contributi a chiunque siano i candidati. Non è una richiesta che faccio per il progetto che abbiamo intitolato Altamura Polis 2030, ma è un invito che faccio all'intera comunità perché si avvicini ai candidati nei quali si riconosca e dia un contributo fattivo, positivo, propositivo, costruttivo, perché questa città possa essere adeguata a quelle che sono le aspettative di una cittadina di 70 mila abitanti, molto laboriosa, molto produttiva, molto presente in vari campi dell'economia, oltre che molto prolifica, molto proficua. Devo dire in chiusura aggiungo soltanto che una città che in questi ultimi anni è stata assolutamente maltrattata. Va bene, grazie allora all'Avvocato Gianni Moramarco per essere stato qui con noi a rappresentare le sei liste civiche che lo supportano. Ricordiamo candidato sindaco alle prossime elezioni, ma questo è solo il primo di un incontro che abbiamo avuto quest'oggi, un aperitivo, perché poi senz'altro di qui a maggio, al momento delle elezioni, avremo modo di riparlare con lui, come con tutti gli altri candidati a sindaco di questa città. Grazie allora Gianni Moramarco, grazie per averci seguito amici telespettatori, ora diamo la linea a Emanuele Giordano, io sono fermo, immobile, non mi muovo, grazie a tutti voi, a te Emanuele.